Azzoppare uno zombie così almeno sta venendo il torcicollo tipo sono piegato perché c'ho il il filtro anti pop up del microfono lo dicevo ogni frase che cavolo tra l'altro c'ho le scimmie o ricordano le scimmie ricordano che poi me lo scopo pure stare piegato c'è il filtro anti pop up il tipo mi copre un pezzo del schermo e devo stare piegato ora se ne ci dico un dolore tonpo schierato che basta parlare di queste cose direi che il caso di smetterla ho iniziato tu eh c'è degli zoppi cambiamo gli scorsi c'hai degli zoppi io c'ho il deserto qua ho ammazzato poco fa l'ultimo tizio che mi stava sulle palle che allora non si riesco a montizzare questi due tipi ma io sento ancora l'orsetto qua al centro mappa e allora è buggato perché abbiamo presi tutti gli orsetti a meno che non ci sono quelli della canzone però non credo così di continuo no allora quindi andrei a prendere un po' di perk esattamente allora prendo la scipidicola e il quick revive così quasi ha intenzione di morire no da notare tipo no da notare via l'immagine del mio kick che è tipo quadrata ok sa magari piccola anche del pol многic né il quiter perché tripsi dopo il singhiozzo è preciso in un po po scrivere consumer cannes e cui c sóle la prima regna mortacci da roma e nè si fa il culo sai stacy superato ad rifrangente l'ho sparato addosso ok ora sono un ragazzo finito mi chiedi un attimo qua entra un attimo la dentro mi vuoi chiudere no ti fidi di me che avevo detto io? questo live finisce qui un saluto tutti mi raccomando lasciate un bel like se mi f***o aescio ma il monco? non lo so dovessere erano nuovi orizzonti a solitario era lì che solideggiava voleva giocare a friscola ha detto no batto la faccina voglio un partner io quasi quasi andrei a potenziare tipo un'arma ho visto per fare vedere come la mimetics mi piace che ogni tanto ti parte l'accento lì quasi andrei a potenziare un'arma un'arma? un'arma? ah si un'arma non lo so io per ora sono a posto così in fatto di armi sarei tentato a potenziare le mustang la pistolina iniziale però non c'è il coso non c'è il phd eh infatti esatto se fosse il phd sarebbe stata la prima cosa infatti c'è una cosa che mi sembra strano veramente il fatto che non ci mettono ancora che non abbiamo messo il phd soprattutto perchè hanno messo la pistolina iniziale cioè hanno messo come pistolina iniziale le M1911 lo sanno tutti che le mustang mi piacciono a mezzo mondo muni 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 ho capito via le lo sanno tutti che le mustang mi piacciono a mezzo mondo quindi mi sembra strano che mettano in una custom le M1911 e non il phd in modo da avere le mustang esattamente tra l'altro anche la re un'altra muni vabbè tiro scimmio tiro scimmio vai ok andate nell'hotella no non apporta dai è una permanente eh che faccio prendo le muni eh si ti se ne frega ho usato due colpi e mi sono sparato sotto i coglioni sono morto ok allora arrivo e indovina dove sono morto questo si chiama karma allora quando vieni vedrai che questo è karma questo è veramente karma si guardi un attimo guardi il karma questo che mi ha punito selvaggiamente mchia dai corri si si tirate corri maledetto corri ma dai dove sei eh dove ero ma guarda dove ero io mondo crudele ma dai ma guarda dove ero eh vabbè c'è ma hai visto che era il karma quello si ma esce che porca puttana son morto precisamente dove ti volevo chiudere eh infatti io t'ho punito non lo sai facci tua no c'erano zombie che è entrato lì dentro ma che cazzo no c'erano zombie che è entrato lì dentro tra l'altro l'hai visto? si ecco vabbè cerco un centro di gravi oddio sto guardando il culo di rashi ma non mi... bello il culo di rashi quasi qua ti passo dalla tua sponda ehm prendeci anche ehm come come? no niente ah ok camma camma ehm la cassa dov'è? bene non posso prendere il mule kick perchè non si possono avere più di 4 perk molto bene e qua la cassa qua vai 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 casseggio culo no ma non si possa avere più di 4 perk ma perchè perchè sono degli strozzi no quindi decidi ooooh il juggle è preso vero? che ridi? hai preso la reagan ma guarda guardalo guardalo qua dai minchia tre casse ho fatto questa partita due reagan una c come due reagan non è possibile ok cuscino culo hashtag cuscino culato cioè proprio e lo voglio vedere ovunque su twitter su instagram ovunque questa hashtag ahahahah ahahahah cuscino culo c'è va bene ma che cazzo ahah comunque c'è la bomba eh io la bomba scappo però non da un cazzo di punti eh c'è da dire è quello che mi da fastidio cioè allora ti spiego la reagan a me piace piace tanto però tipo durante le partite sarebbe meglio averla dal 20 in poco esatto quando fai i round perché sennò non ti fa fare punti sei solo quella da usare esatto ovviamente potresti anche avere un'arma secondaria però esatto volendo anzi è quasi quasi lo farei anche cioè prenderei un'arma secondaria piuttosto che avere solo reagan e pistol di vencedo eh quindi quasi quasi non vorrebbe prendere il mio kick piuttosto che no ti dirò due armi mi bastano eh cioè preferisco avere la speedcola e l'altra qual è stamina qua si no? c'è stamina, mill kick e speedcola no preferisco avere speedcola ah no no c'è anche il double tap vero c'è anche il double tap no no preferisco avere la combo che ti ho detto prima vabbè intanto mi sparo un'altra cassa vediamo se mi da un'altra reagan eh se lo sapevo magari facevo lo zoppo eh vabbè allora facciamo vedere anche il double tap Sal vieni per favore vieni che ti uscite? vieni vieni eh sta arrivando allora se non mi crede guardate i punti ne ho fatta solo una come? ci ho visto bene? stiamo scherzando è buggata sta cassa oh dal reagan così alla cazzo te lo dico ma non è possibile vabbè via hanno settato la reagan come non lo so l'smr tipo c'è ma si me la date tre cazzo vabbè aspetta eh giusto per fare una cassa anch'io così almeno sono contento ora mi esce Cannone Zeus no ecco arsacchiotto a te c'è sto cazzo eh si è sforzato anche troppo quindi si deve riposare giustamente allora in totale ho fatto quattro casse si mi sono usciti Cicom reagan normale poi di nuovo reagan perchè ero morto ora reagan mark 2 molto bene va bene per me non ci sono problemi quindi ora c'hai due reagan in pratica si ho reagan e reagan mark 2 molto bene non so se il cazzo di phd eh infatti ma comunque da fastidio che effetti dolfin dive reagan poi mustang mustang cioè è vero c'è pure il dolfin dive perchè cazzo non l'hanno messo eh infatti non ma non è che è nascosto tipo sotto qualche che dice un paloompa che ne so un paloompa si ma che manichino no comunque mi sa che per i punti ci arrivi mezz'ora prima te a meno che non muori ok nuovo obiettivo far morire Sal ora mi sto qua ti giro intorno perchè non ti chiudono e muori ma io vado all'altra parte no io ti seguo io ti seguo vado un attimo a prendere ehm cosa la speed e quick esatto vai ti copro vabbè che io c'ho la classica speed ma che cazzo ti vuole coperto ehm come come no mi sono capito da solo si no l'ho capito anch'io però volevo sentire proprio ho capito ma che cazzo ti vuole coperto ehm ho dimenticato quello che stavo pensando sembra di fare ristorante no c'è il coperto paga anche il coperto si 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 non c'entra nulla no infatti era giusto mettere qualcosa si originale quanto un cucchiaino di sale quanto un coperto un copercio anzi si si di una pentola di una padella sale c'era il collegamento anche con porca porca puttana mi stavo chiudendo sotto le scale si eh ti consiglio di non andare troppo sotto le scale che stanno in questa zona perchè c'è un punto mezzo morto dove ti blocco io sono sulle scale no io dico le scale esterne queste qua di legno ho finito pure le muni e fare un colpo alla volta ma che cazzo molto good ho dovuto aprire due porte vaffancio ma dov'è la cassa? la cassa è sotto alla casetta qua dove siamo ora? sotto ah tra l'altro ha regal maduro io lancio una scimmia e tanto per spizio tanto per spizio il cazzo c'era un bordello di gente eh no perchè ho finito le muni ci sono i gai e c'ho anche quelle del gai l'ho finito vaffanculo l'ho doppiamente molto bene cioè prima ci ha sputato due maxemmo che non servivano un cazzo uno di romanzo no ma l'odio io come son passato non è che come son passato t'ho salvato il culo lo devi vedere nel video cioè ero in piedi mi bloccavo mi sono abbassato con c e sono passato cioè ma c'ero io che spammavo colpi di reagan anche devo anche ringraziare il signor coscino per lo spammamento dei colpi di reagan che ora mi sta fregando giustamente gli zombie hai detto che sei senza colpi ti lamenti pure oh toh maxemmo vuoi qualcos'altro aspetta tira una scimmia pompa e maxemmo mi sa che sono gli ultimi vabbè prendi prendi vabbè non voglio ammazzare colterla io il maxemmo non lo voglio perdere che mi sono ammazzato mi stava ammazzando con la scimmia vabbè tipo mi è esploso in faccia va bene per un attimo pensavo non mi avesse ridato le munizioni perchè non mi aveva aggiornato i colpi e non mi aveva aggiornato i colpi della reagan ah no eh poi ho dovuto sparare un colpo per così si aggiornassero ma comunque tu sei già a 27.000 eh eh lo so cazzo barriello eh si hai visto però round 20 ancora non ci siamo signori round 20 non ci siamo eh siamo 18 e lì lì eh no non ci siamo ok mi blocco ah grazie reagan guarda quasi si ho quasi quasi proprio quasi quasi alla fiorentina fiorentino no perchè altro maxemmo ma ce li caga cazzo quando è che non servo che cazzo è poi fai tirare la scimmia va dai non è possibile ma dove vai oh dove vai zombie dove vai se instant non ce l'hai ma non hai tirata la scimmia si si prendi 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 tirata 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 è la scimmia ma dove cazzo sei si un secondo che sono sono io pensavo stessi dietro di me poi mi giro l'altra fonda ah giusto per restare in tema di tutte ne fai cose di volte più kill ne sono sicuro di questo eh giusto come ha detto comunque non c'è né né un eh tirapugni né un bowie si non c'è un'arma da mili no 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 da mili di mili di mili 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 con valle bruttissimo bruttissimo spidi gonzale eh ho guardato stimolato di ricorda un po' spidi gonzale cosa spidi gonzale se ti ricorda un po' sta mappa si in effetti è un po' l'ambientazione un po' texas non so come è, un po' texano no cowboy ok io c'ho 35.000 punti oddio quasi quasi potevo potenziare ma è che hai censurato l'ultimo cosa? tu parla, no niente ok